Questa mattina alle ore 11 nella sala consigliare del comune di Pordenone, il sindaco Claudio Pedrotti ha consegnato il sigillo della città a Luis Sepulveda, protagonista della rassegna culturale Dedica. Il sigillo viene conferito alle personalità, ospiti della città di Pordenone, che si sono particolarmente distinte nella loro attività. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Come sempre Dedica ci dà l'opportunità di avere grandi ospiti a Pordenone. La lunga fila di nomi prestigiosi che hanno caratterizzato gli ultimi anni viene completata quest'anno con Luis Sepulveda ed è un grande onore, seguendo la tradizione, dargli il sigillo della città. È un modo simbolico per non solo manifestare a questo grande personaggio, che credo ha questa incredibile natura di grande estroversione, ma alla fine, se leggete i suoi libri, anche di un tocco di tristezza e di scetticismo verso gli umani. È un grande piacere averlo stamattina qui e stabilire un legame con lui che andrà al di là di Dedica, come per gli altri autori, sono diventati un po' ambasciatori della nostra città nel mondo. Quindi è alla fine una doppia festa, perché se noi diamo un simbolo con cui li facciamo diventare di fatto cittadini di Pordenone, loro contraccambiano e ci danno come compenso il fatto di diventare i testimonial di Pordenone, di quello che noi facciamo qua, del nostro modo di fare cultura, che ha una unicità che ci contraddistingue. Quindi un grande piacere, ma anche un grande vantaggio per Pordenone ancora una volta attraverso il fatto di fare cultura. In seguito alla cerimonia, in una sala gremita, sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato alla rassegna Parole e immagini per Luis Sepulveda.